Eccoci qua, ciao ciao. Dunque si fa un gran parlare di scatola nera, black box obbligatoria per le autovetture dal 6 luglio 2022. Ma in realtà in che cosa consiste questo obbligo? Ci dobbiamo spaventare? Dobbiamo subito correre ai ripari? Fare qualcosa? Installarla? Oppure non è così? Lo vediamo subito. Bene ragazzi, in realtà la scatola nera o black box non è una novità, molti di noi l'hanno già installata nella propria automobile perché magari in questo modo hanno strappato un premio assicurativo un po' più conveniente e quindi non è qualcosa di assolutamente nuovo almeno in Italia. Ma naturalmente la scatola nera di cui si parla per l'obbligo dell'Unione Europea è qualcosa di leggermente diverso. In realtà l'Unione Europea stabilisce che a partire dal 6 luglio 2022 i produttori di automobili che vorranno poi naturalmente ottenere l'omologazione per poter vendere le autovetture in Europa, nell'Unione Europea, dovranno attenersi a una serie di richieste. Tra queste richieste naturalmente ci sono dei cosiddetti dispositivi di sicurezza tipo il cruise control adattivo, il rilevamento di stanchezza da parte del conducente, una novità è l'alco-lock, cioè il fatto di non avviare l'automobile se viene rilevato il tasso alcolico elevato, il miglior controllo e segnalazione di pressione corretta dei pneumatici e cose di questo tipo. In particolar modo quello che fa discutere è appunto l'ADR, l'Event Data Recorder, cioè il registratore dei dati di un evento, cioè significa una scatola nera. Nel caso di un impatto, di un incidente, la scatola nera registra fino a 30 secondi prima l'evento e fino a 5 secondi dopo l'evento, naturalmente registrando una serie di dati importanti, telemetrici, quindi la velocità, e confrontando poi magari la velocità con i dati presenti o attraverso il lettore dell'automobile, quello della segnaletica stradale, di cui sono dotate già molte automobili, oppure con i dati relativi alla cartografia o comunque con la segnalazione di eventuali autorità intervenute sul posto dell'incidente. Naturalmente altri dati possono essere presenti, come per esempio da quanto tempo si è alla guida, l'andamento, cioè le accelerazioni, le frenate brusche, cose che già sono presenti nelle scatole nere che installiamo con le assicurazioni in Italia. Potrebbe anche essere registrata per esempio l'effettivo l'inserimento della cintura di sicurezza oppure no e cose di questo tipo. Naturalmente si tratta di un dispositivo che funge da deterrente, un po' come la scatola nera delle assicurazioni, perché sapendo che insomma abbiamo un dispositivo che registra il nostro comportamento al volante, potremmo essere indotti a guidare in maniera un po' più educata, diciamo così. Ma naturalmente rimane anche il problema della privacy, per esempio questi dati per quanto tempo vengono registrati, da chi vengono gestiti, dove vengono conservati e così via. Insomma naturalmente sapete che l'abbinamento anche alla geolocalizzazione potrebbe creare appunto il problema della privacy, monitorare il nostro percorso, magari dove stanno andando, creare dei profili di comportamento, di guida e così via. Questo è un po' anche il bandolo della matassa tra la scatola nera voluta dall'Unione Europea e la scatola nera che invece vorrebbero mantenere ancora gli assicuratori. Perché? Perché naturalmente agli assicuratori fa comodo anche profilare poi il cliente e utilizzare magari insomma come già capita magari qualche volta i dati provenienti dalla scatola nera per non risarcire del tutto il conducente. Quindi l'idea e l'ipotesi segnalata anche dal sole 24 ore è quella che magari a un certo punto in auto potremmo avere ben due di questi dispositivi. Quello previsto dal produttore per l'obbligo imposto dall'Unione Europea è quello che andiamo a farci installare noi perché abbiamo così ottenuto un premio più basso con il nostro assicuratore. Ma detto questo, l'obbligo quindi è un obbligo che riguarda il produttore, non riguarda il consumatore, il guidatore, l'acquirente dell'auto o il guidatore che poi deve stipulare l'assicurazione. Quindi non c'entra nulla con la scatola nera che eventualmente andiamo a installare con l'assicurazione, quando stipuliamo un contratto di assicurazione. È una scatola nera che viene installata, che deve essere installata dai produttori. Quindi dal 6 luglio 2022 qualunque produttore volesse omologare una nuova autovettura per poi venderla successivamente nel mercato dell'Unione Europea dovrà soddisfare questi requisiti. Questo significa che poi dal momento dell'omologazione naturalmente l'auto non viene immatricolata il giorno dopo, perché poi c'è tutta una procedura, ci sono i tempi di produzione eccetera. Questo significa che i produttori poi hanno altri due anni di tempo, quindi 7 luglio 2024 è la data ultima per poter immatricolare un'autovettura senza questi dispositivi. Cioè quelle effettivamente immatricolate, quindi che poi marceranno in strada, dovranno soddisfare questi requisiti e avere una black box o ADR come viene chiamato tecnicamente. Insomma la scatola nera. Quindi da qui al 2024 ancora non ci sarà l'obbligo per nessuna auto nuova di avere effettivamente la scatola nera a bordo. Ma dal 7 luglio 2024 non sarà possibile naturalmente immatricolare alcuna auto senza questa black box. Quindi cosa dobbiamo fare noi che abbiamo già l'auto o che abbiamo un'auto in procinto di essere immatricolata? Nulla naturalmente. Possiamo guidare tranquillamente e eventualmente affidarci alla scatola nera dell'assicurazione giusto per tirare via un premio un po' più conveniente. Perché la scatola nera? Perché naturalmente rientra in una politica, in una strategia di medio termine con la quale l'Unione Europea vuole ridurre significativamente il numero di vittime e quindi morti e feriti a seguito di incidenti stradali. La tendenza dalla registrazione significativa dei primi numeri, che risale al 2010, quindi l'anno di benchmark per il riferimento delle vittime in strada, è un numero progressivamente diminuito. Poi in tutti i paesi dell'Unione Europea abbiamo percentuali negative, cioè significa che c'è una riduzione, in alcuni casi anche molto significativa, degli incidenti stradali con morti e vittime. Ma ancora tutto sommato in Unione Europea praticamente l'equivalente di una città di circa 100.000 abitanti ogni anno sparisce. Sono i morti che possiamo registrare in tutta l'Unione Europea a seguito di incidenti stradali. Altro elemento preoccupante è che una buona, grande fetta di queste vittime sono giovanissimi, sono giovani, spesso anche minorenni. Perché naturalmente gli incidenti stradali non coinvolgono soltanto i guidatori, ma spesso ciclisti, pedoni e adesso anche i giovani con i monopattini, come la cronaca nera racconta ultimamente. Quindi la tendenza è quella di amplificare, aumentare il trend già positivo di una riduzione e quindi di un aumento della sicurezza. Questo per ridurre naturalmente anche i costi della sanità pubblica che sono molto elevati a seguito del, non soltanto naturalmente degli incidenti mortali, ma soprattutto poi per circa due milioni di feriti che naturalmente possono anche manifestare naturalmente conseguenze gravi a seguito dei incidenti, lesioni anche permanenti. Questo significa appunto non soltanto un danno naturalmente e un cambiamento nella vita del soggetto, della vittima, ma anche costi significativi per la sanità pubblica, per la collettività. Quindi in vista di questa prospettiva, cioè di una strategia di ampio respiro, l'Unione Europea prova ad aumentare ancora di più la sicurezza in strada, vincolando i produttori a una serie di dispositivi, alcuni dei quali in realtà sono già presenti. Per esempio sulla Cupra Formentor abbiamo il Cruise Control adattivo, abbiamo altri elementi e dispositivi di avvertimento, segnaletica, di sicurezza, che naturalmente variano a seconda dei pacchetti, che infatti si chiamano Safe and Driving Pack. Questi dispositivi naturalmente aumenteranno e saranno presenti via via per obbligo in maniera sempre più numerosa su tutti i veicoli. Questo non farà che aumentare naturalmente la sicurezza in strada. Naturalmente questi dispositivi in alcuni casi potranno essere disabilitati, disattivati temporaneamente, come per esempio accade già con il Lane Assist. Il Lane Assist si può disattivare anche sulla Cupra Formentor, ma a ogni riavvio dell'automobile questi dispositivi naturalmente ripartiranno con la loro attivazione, a meno di modifiche insomma non conformi a quanto prescritto dal produttore e dal costruttore. Bene, questo è quanto. Spero che abbia chiarito un po' le vostre idee perché ho sentito un po' di confusione e anche un po' di panico, nel senso dal 6 luglio 2022 tutti a mettere questa scatola nella. No, non dobbiamo fare nulla. È una strategia a medio termine che naturalmente comincerà a intervenire poi significativamente a partire dal 2024. Bene, se questo video vi è piaciuto un bel like, magari vi iscrivete al canale e ci vediamo sempre qui. Alla prossima e ciao Ciao!